Ciao a tutti, sto registrando in una giornata calda quindi non spegnere al ventilatore poche parole per dirvi che non vi avevo regalato il video bloopers del 2019 quindi siccome ho salvati sul computer diversi video dell'anno scorso e pochi di quest'anno a voi il video bloopers 2019-2020 buon divertimento se fossi stato un cantante se fossi stato una cantante delle sparse girls ho sentito di sfuggita la voce di Sergio Silvestre ricuci... riuscirebbe... c'era scritto ricucirebbe... ad ottenere un effetto apprezzabile solo decolorandoseli prima... dato che ogni capello rosso naturale è più spesso ai prigionieri... si si... baffanculo... tanto che... a quanto sembra morì quasi subito perchè era vicino al punto d'impatto e fu uno degli ultimi a essere tirato fuori... a essere tirato fuori dal treno e rottami... quello che risulta misterioso è che per tutta la notte e fino a quando il suo... piuttosto che uno schiavo per esempio da frustra... panc***o... piuttosto che uno schiavo da frustrare o su facebook troverà futuro insomma... quindi... grazie e un abbraccio grosso grosso a tutti e due... nella tua vita il valore dell'amicizia è necessario o potresti farne a meno? assolutamente no... non potrei mai farne a meno... non potrei dire che... ma salve a tutti i Colors... benvenuti in questo nuovo video... a meno che non ci siano altre idee in mezzo... penso di soddisfare nei prossimi due video... due vostre richieste... mi avete chiesto altri due inseg... uomo di 29 anni... non capisco le persone... ca bestia... non mi mandino in... demonetizzizz... bloopers... demonetizzazione video... ehm... non mi invinto... io... non mi invito... non mi invito... non mi invito... non mi invito... il... attivano... non mi invito... molti...